La soluzione per uscire dall'emergenza rifiutiva trovata è subito l'arrivo dei mezzi privati a soldati per soperire all'assenza di autocompattatori e mezzi utilizzati per la raccolta. Non sembra ancora aver sortito gli effetti sperati. Dei 13 autocompattatori in uso fino a pochi giorni fa ne sono rimasti funzionanti solo 6, dei 20 mezzi utilizzati per la raccolta invece in giro per la città ce ne sono solo 2. Una proporzione che fa ben capire come nel giro di una decina di giorni ci si sia ritrovati letteralmente sommersi da cataste di spazzatura. Quello che non si capisce è come tutto ciò si sia potuto verificare senza chi di dovere se ne sia minimamente accorto. Forse si è sottovalutato un problema che nel momento in cui poi si è presentato è sfuggito letteralmente di mano e alla gente comune poco interessa sapere e capire se non siano stati rinnovati i contratti alle officine che si occupavano di aggiustare i mezzi durante il passaggio tra la vecchia Messina Ambiente e la nuova Messina Servizi Bene Comune. Anche perché a dicembre scade l'ultima rata dell'Atari e nessuno può permettersi di non pagarla sol perché il servizio non è stato reso come dovuto. Il sindaco Cateno De Luca ha promesso che se entro un 30 novembre la situazione non sarà tornata alla normalità salteranno delle teste. Ha chiesto scusa alla città e ha battuto i pugni sul tavolo. Ma chi occupa posti di comando ed è responsabile di un servizio come quello di mantenere pulita e decorosa la città non può permettersi di farla piombare in simili condizioni e dovrà rendere conto al sindaco ma alla città stessa se non riuscirà in questo compito. La speranza è che non ci vogliono altri 15 giorni per vedere la città pulita e l'invito è come sempre rivolto anche ai messinesi perché non ci si può lamentare se poi siamo i primi a disfarci di mobili o di elettrodomestici accanto a Cassonetti e ancora peggio agli angoli della strada. È un po' come se nella nostra casa si lasciasse al centro del salone la spazzatura in bella vista.